Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. La denge, una malattia febbrile emorragica, sta attualmente colpendo duramente in Sud America, sollevando grande preoccupazione anche per la sua potenziale diffusione tramite viaggi aerei fino a noi. Con l'incremento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, l'Italia è sempre più suscettibile a vettori come la zanzara tigre, che può trasmettere la malattia. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, la denge è causata da quattro varianti virali simili e viene trasmessa attraverso le punture di zanzare infette. Non avviene quindi un contagio diretto da persona a persona. I sintomi includono febbre elevata, dolori muscolari e articolari intensi, mal di testa acuto e irritazioni cutanee. Matteo Bassetti, immunologo del San Martino di Genova, ha spiegato durante una puntata di Tagadà sulla 7 che la zanzara tigre, ospite abituale in Italia, può trasmettere la denge non solo durante l'estate, ma anche in autunno e in inverno, a causa dell'innalzamento delle temperature. Bassetti sottolinea che non esiste una terapia specifica per la denge, e in alcuni casi può essere letale, soprattutto in caso di reinfezione. La prevenzione è fondamentale e include disinfestazioni per limitare la presenza della zanzara tigre, un'azione che dovrebbe essere intrapresa dalle autorità locali. Riguardo alla vaccinazione, Bassetti consiglia di considerarla per coloro che hanno già avuto una prima infezione. In conclusione, la decisione di vaccinarsi contro la denge dovrebbe essere valutata caso per caso, in base alla situazione individuale e al grado di esposizione al virus. Tu che ne pensi di questa brutta notizia? Faccelo sapere nei commenti, e attiva la campanella per seguirci. Ciao e grazie.